Una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Venerdì 4 aprile, San Isidoro Vescovo. È il 94esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 271. Il sole sorge alle 6.46 e tramonta alle 19.42. La luna si leva alle 9.40 e tramonta a mezzanotte. Nuore a Venezia, Marin Sanudo, il giovane, cronista della Repubblica Veneta. Affamato, curioso di notizie, come egli stesso si definiva, raccolse nella sua casa una cospicua biblioteca di libri manoscritti che gli permise di approfondire gli studi storici prediletti. Famosi i suoi diari, iniziati il 1 gennaio 1496 e scritti giorno per giorno fino al 30 settembre 1533. Portati via dall'Austria nel 1805, i diari sanudiani furono restituiti a Venezia nel 1866. Le previsioni per domani. Fino al primo mattino residua nuvolosità piuttosto compatta, soprattutto in pianura, in seguito a crescenti schierite alternate a nuvolosità cumuliforme pomeridiana, specie in prossimità dei rilievi. Probabilità bassa di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio, anche in medio-bassa al pomeriggio su zone montane, piede montane e pianura meridionale. Temperature minime in calo in quota e nelle valli massime in aumento.